Pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari Eccoci qua caro Marco! E allora, aspiranti digitali d'Italia, unitevi e telefonate subito il numero 0637 35 3302 oppure scriveteci a una mail onomattinainfamigliacalcelarai.it oppure ancora scriveteci su Facebook o su Twitter Marco Camisani Calzolari risponderà, almeno cercherà, insomma di rispondere a tutte le vostre domande Caro Marco, è il dibattito, si fa sempre più acceso, ahimè, sulle fake news, ovvero sulle notizie false diffuse in rete Ecco, quindi in quale reato incappa? Chi le diffonde e chi le condividi? Dipende che cosa si fa, no, dipende cosa fanno E allora, per esempio, se la news è diffamatoria verso qualcuno, c'è proprio un reato che è la diffamazione a mezzo stampa, anche se non è proprio stampa, no? E c'è anche una multa, evidentemente, e dipende dal tipo di reato, una reclusione di sei mesi a tre anni Se invece la si condivide, io dico purtroppo, non c'è alcun reato perché in realtà a volte la condivisione di fake news fa danni e quindi ancora non è stato legiferato bene, no? Quindi bisognerebbe invece occuparsi, secondo me, di questo perché le fake news fanno male Ma a volte può anche essere, non so, può essere lesiva, no? La news dell'immagine di qualche azienda Allora, in quel caso l'azienda potrebbe chiedere un risarcimento Oppure se si fa finta che ci sia qualche pericolo Attenzione, perché adesso, magari inesistente, c'è proprio un reato che è procurato allarme, anche lì multe, eccetera, sanzioni E invece le false donazioni, quindi le fake news sulle false donazioni Quindi dona, eccetera, rientrano proprio nelle truffe E lì ci sono un po' di reclusioni, ovviamente Reclusioni, scusami, è possibile essere reclusi tra sei mesi e tre anni Perché evidentemente... E invece come difendersi? E beh, allora, bisogna innanzitutto avere sempre un buon senso, no? Perché quello vince su tutto Anche se la tecnologia, ad esempio Facebook e Twitter Stanno facendo del loro meglio per far segnalare le fake news Quindi una cosa importante che bisogna fare Che quando ne riconoscete una, segnalatela alla piattaforma Ecco Tutte le piattaforme ne hanno la possibilità Se le segnalate, aiutate il sistema, insomma Ed ora, risolvi un problema digitale Sentiamo chi c'è al telefono Pronto? Pronto, buongiorno professore Ho scaricato delle foto sul computer Ma alcune sono sotto sopra o messe di lato Come faccio a salvarle nella posizione corretta? Allora, quando sono un po' girate Bisogna... C'è un file Cioè, dentro il file manager È possibile proprio fare il tasto destro E c'è un'indicazione chiara Sulla maggior parte dei computer E dei sistemi operativi Con il ruota Ruota a destra E può essere ruotata Fino a diventare finalmente dritta Da così a così Hai reso l'idea, Marco Va bene E adesso è il momento di... Video curioso È il momento del video Vediamolo Arriva, eccole qua Vedete, sono... Non si vedono Ma sono germogli di patate E come avete visto, no? Nel film The Martian Il marziano Quello con Matt Damon L'ho visto, lo visto al cinema Che coltivava le patate Ma era un po' ancora una... Non era proprio finzione cinematografica Ma era un'idea che avevano gli sceneggiatori Ma adesso hanno dimostrato Che è possibile davvero Cioè hanno riprodotto L'università L'università Il centro di ricerca Per le patate Di Lima Insieme alla NASA Hanno sostanzialmente provato A vedere se questa cosa Poteva funzionare E all'interno di una sorta di Territorio che riproduce Quello marziano Sono riusciti a farle crescere Le patate E quindi Su Marte Quando andremo a vivere su Marte Sei pronta? Sì Prontissima Già la valigia fatta Valigia fatta E ce ne andiamo Su Marte E mangeremo patate Sempre Beh meno male Almeno mangeremo Mortaggio e non insetti È vero È vero Come ci dicevano E dopo esserci collegati Con il tuo ascendente Degli anni Ottanti Il tuo discendente Del futuro Oggi chi ci farà Eccolo qua Guarda che bellino Guardalo Guardalo Oh mamma Ciao Marco Ciao 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 Guarda che bello che è Guarda che lo stesso botai Ciao Marco Eccomi qua Sono il tuo avatar E vivo in un mondo virtuale Ti vedo Qui posso fare un po' Quello che voglio Vuoi che ti faccia vedere Cosa riesco a fare Sì Chiedimi Vai Allora Ad esempio nel tuo mondo Ci sono non so Gli smartphone I cellulari Come abbiamo noi Ma certo che abbiamo I cellulari e gli smartphone Posso scattare delle foto Wow E guardarle Proprio come te Fantastico L'unica cosa è che a differenza tua Essendo in un mondo virtuale Posso fare tutto quello che mi pare Vuoi un esempio? E certo Fammi vedere un po' di cose che puoi fare Degli esempi del mondo di un avatar Per esempio posso avere un mucchio di soldi Tanto sono soldi virtuali E ovviamente posso comprare tutto quello che mi pare Tutta la merce virtuale del mondo Posso perfino volare come Superman O appendermi a dei palloncini Come hai sempre sognato Ho sempre desiderato fare Spider-Man Ti piace il mio mondo? Sì è che devo dire che insomma Sei un po' sempre lì tu Non nel mondo reale Possiamo muoverci Andare un po' dove ci pare Ma va anche io vado dove mi pare Anzi molto più velocemente Per esempio adesso sono in città Adesso vicino al mare O se mi vai in un secondo Sono in montagna E posso sciare E quando mi stufo Posso anche cambiare pianeta Insomma faccio tutto quello che voglio Ti piace? Guarda Sì starei ore Ma dobbiamo continuare la trasmissione Va bene va bene Vai pure avanti con la trasmissione Tanto la tua E la mia rubrica preferita Avevi dubbi? No Ciao Marco Ciao Ciao a te Allora quando vuoi Sai che mi trovi Anche l'avatar È il mio avatar Hai visto che è carino Viveremo tutti così tra un po' Avremo l'avatar Eh già Non è male Io ne ho uno Io ne ho uno Simpatico Lavora per me E andiamo avanti Perché dobbiamo leggere La mail di Cinzia Che è arrivata in redazione E che chiede Ho sottoscritto un piano tariffario Per avere internet sul cellulare Ma mi sfugge un particolare Quando sono fuori casa Devo o non devo Disattivare il wifi? Allora la maggior parte Ma veramente proprio tutti I dispositivi Ha la possibilità di fare Questo cambiamento in automatico Cioè quando si esce da casa La wifi non prende più E automaticamente Passa alla connessione 3G o 4G Insomma quello che è Quindi non è necessario Disattivarla Cara la mia Non mi ricordo più il nome Cinzia Cinzia Che salutiamo Ciao Cinzia Cinzia Non è necessario Mi viene un po' Me la zeppo la mia Non è necessario Mentre la parola digitale di oggi è Eccola qua Tecnofobia Ovvero la versione per la tecnologia La paura per i robot Per la realtà Per l'intelligenza artificiale Per una serie Per gli avatar magari Per queste stranezze qua Ed è una sorta di Come dire Di problema Che si trova spesso Tra le persone Magari Soprattutto Magari Nelle meno giovani E in generale Ad esempio L'università di Baylor Negli Stati Uniti Ha detto che la tecnofobia colpisce in generale Le persone meno istruite Io credo che sia Ma perché si ha paura O perché magari Si ha paura Si ha paura Non si è capace Di utilizzare la tecnologia Entrambe le cose Si ha paura perché Appunto non si è capaci Ma non c'è problema Ma da oggi le paure finiscono Perché ci siamo noi Con pronto soccorso digitale Quindi qualunque paura Noi siamo qui per aiutarvi a superare Risolve tutti i problemi E caro Marco I famosi gruppi di Whatsapp Perché ormai Spopolano No Chi di noi non ha un gruppo su Whatsapp Tu ce l'hai? Ce l'abbiamo Una decina di gruppi Ecco una decina Perché c'è quello delle mamme C'è quello dei papà C'è quello della scuola C'è quello del condominio C'è quello della palestra Insomma quello dell'ufficio E chi più ne ha più ne mettono Però ognuno di loro Nasconde delle piccole insidie Come sempre Ma come nella vita No? Quella in atomi Quindi non è mai Il digitale Il cattivone O internet O Whatsapp Ma è a volte come si usa O comunque quello che crea problemi Quindi prestate attenzione Mi raccomando Pronti? Allora Nelle chat di gruppo Quindi quelle dove non si è Uno a uno Bisogna ricordarsi che In quel momento Dal punto di vista Come dire legale Non si è più In una conversazione privata Ma si è in una conversazione pubblica E infatti Infatti È successo che a Parma Sono state licenziate Delle operaie Lascio perdere Se fosse stato licenziate Giustamente o ingiustamente Però la ragione Era perché In qualche modo hanno Parlato male del capo Ma all'interno Di una chat di gruppo E quindi non vale più L'articolo 15 Della costituzione Per cui la libertà È la segretezza Della corrispondenza In qualunque forma Insomma È inviolabile Perché in pratica È come parlare al bar Perché in pratica E quando parli al bar È questo Se c'è qualcuno Una terza persona Che ti ascolta C'è una terza persona Non è più conversazione privata Quindi fate attenzione Ogni volta che siete In una chat di gruppo Non state più parlando Uno a uno Per cui Se per caso Appunto parlate male Di qualcuno In realtà è Credo sia legalmente Difamazione O comunque sicuramente Non è conversazione privata Quindi può scattare La diffamazione Che l'ha appena detto E certo qualcuno può denunciare O puoi rischiare Anche il tuo posto di lavoro E si è licenziato Poi se sarà giusto Licenziamento Non è colpa del digitale Non è in questo momento Nostro tema Però Però è andata così Bisogna prestare attenzione Magari evitiamo Di parlare male del prossimo In generale Che male non fa Parliamone sempre bene Via Bravo Allora grazie Il nostro prof 2.0 Marco Camisani Calzolari A sabato prossimo